io voglio proprio vedere come l'hanno fatto sto nuovo campo di basket con l'aspetto da quando avevo sei anni cavoletti sa fa caldo mi tolgo dei vestiti ok vediamo chi è il conduttore sta palestra ciao io sono lebron james per favore ditemi che sto sognando e no io sono proprio lebron james l'unico è il vero allora vuoi un autografo e metti giù l'arma metti giù l'arma perché nessuno spara lebron james già io sono lebron james ma mi vuoi sparare e aspetta un attimo e già io sono lebron james lebron james anche se immortale io io ero lebron james fidati per il tuo bene a questo punto mi vado a fare una partidina ti taglierò la famiglia parola del bro james oh no c'è il presidente nudista e io non sono buddista no sei nudista io sono buddista lascia stare andiamo si aspetta arriva allora primo luogo abbiamo peppo il presidente nudista e un cactus poi qua abbiamo il resto della gang poi si gioca ma la parte subito e lancia la palla ma il cactus ne approfitta della sua tibollezza e fa un lancio di cactus perdendolo la zucca lo prende e lo lancia ma il presidente nudista gli fa un headshot che lo manda direttamente nell'altra porta gli fa fare 700 gol in due secondi mamma mia poi però arriva lebron james e visto che filippo sia un po infortunato è ma mi sa mi sa giusto poco lo sostituirà lebron james che si unisce all'altra squadra mettendoci al contrario poi entra nella porta e viene segnato come oltre gol per la squadra dalla gang albitro ma ti sembra giusta sta cosa io che ne sa ci sono un cesso nuova palla buttata si rigioca stavolta il presidente nudista si fa avanti e tira un calcio potentissimo che sparrucca la mela che segna un punto la squadra dei nudiste vincono e per festeggiare la zucca si toglie i vestiti che poi lo abbiamo vinto